Ciao ragazzi, il video di oggi sarà sullo shopping, infatti sono appena iniziati i saldi a inizio gennaio e quindi io sono andata a fare shopping, ho comprato un po' di cose e quindi voglio mostrare così magari potete anche andare a comprarle anche voi se vi piace qualcosa che ho comprato vi dirò anche i prezzi così almeno capite un po' quello che andrete a trovare e alcune di queste cose non sono in saldo ma ve lo dirò, le ho comprate lo stesso perché certe volte vedi una cosa e ti piace così tanto che anche se non è in saldo la devi prendere inizio subito perché sono andata in un po' di negozi quindi sarà un po' lungo e non voglio fare un video troppo lungo quindi iniziamo, il primo negozio è Accessorize Accessorize, ho comprato una fantastica borsa eccola qui, è una fantastica borsa di un colore tra il blu e il verde questo verde non so come si chiama ma è un verde 30% di sconto costava 34,90 e l'ho pagata 24,43 mi mancavano delle borse quindi ho deciso di comprarne una nuova e mi piace un sacco Bershka a Bershka ho comprato solo un paio di scarpe sono queste tra ballerina e sneaker sono una via di mezzo sono nere e hanno le borche argento, queste piccoline qui e mi sono piaciute perché ricordano le vans ma comunque sono appunto a forma di ballerina e queste sono costate 20 euro prima non so quanto costavano però sono costate 20 euro sono andata da Tully Whale e questo negozio devo dire la verità non è un negozio che mi piace sarà un po' per la qualità, un po' per lo stile comunque preferisco altre cose però qui vendono sempre i leggings neri a 2 li paghi 12 quindi vado sempre lì a prendere i leggings quindi non sono niente di che sono semplicemente i due paesi di leggings neri passiamo alla Mondadori alla Mondadori ho fatto la mia spesa non in saldo erano due cose che mi mancavano, dovevo proprio comprarle sto parlando del DVD The One Direction del film documentario che è uscito a settembre al cinema in 3D e io poi ho comprato questo DVD che è la versione Fan Deluxe e quindi oltre al film ci sono tanti contenuti speciali bla 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 e ci sono anche oltre al DVD delle fantastiche cartoline di tutti e cinque e ho preso questa versione ovviamente perché queste cartoline mi mancavano dovevo per far saperle questo film tra parentesi l'ho già rivisto tipo 4-5 volte però lasciamo stare e l'altra cosa invece è non l'ho ricevuta a Natale quindi poi l'ho comprata visto che a Natale non è arrivata e lo volevo un sacco è questo libro The One Direction che si chiama Where We Are che è il secondo libro un po' biografia, un po' quello raccontano la loro vita avventurosa H&M io vado sempre da H&M H&M e Zara sono i negozi che sono i miei preferiti da sempre allora ho comprato delle cose estive e delle cose invernali quelle estive sono una bellissima gonna skater a vita alta che sembra quasi di jeans ma in realtà è di un materiale elasticissimo bella mi è piaciuto un sacco le gonna vita alta e inoltre ho preso anche questa bellissima cannottiera che in realtà dovrebbe essere un vestito aderentissimo che io ovviamente utilizzerò come cannottiera con sulle ananas ed è costata solo 3 euro questa fantastica cannottiera è costata solo 3 euro ed è pochissimo mentre la gonna è costata la bellezza di 15 euro questa non era in saldo purtroppo però dovevo comprarla questa è una maglietta nera niente di che ma l'ho comprata perché queste magliette nere vanno sempre bene normalissima, bella, larga, come piace a me 7 euro questa cosa invece è molto invernale quasi natalizia, userei dire ed è questo enorme maglione ho preso la XL perché a me piacciono le cose belle e larghe con su questa arena molto carina ed è costato 20 euro quindi un affalone aspetterò un anno per metterlo però fa niente ho anche comprato questi due fantastici pennelli per ombretto anzi io vi consiglio di comprarli H&M anche se non sono della qualità migliore non costano tanto e comunque non fanno schifo quindi io utilizzo questi in particolare e poi ho comprato due cover questa con i fiori lo sfondo è nero e i fiori invece sono rosa e mi piacciono molto i fiori quindi la dovevo comprare e invece questa che l'ho già messa sul telefono non so se si può vedere bene dalla telecamera comunque ha un sacco di gatti tigrati grigi in 3D cioè che si muove e si vede che sembra rilievo e anche una fantastica borsa tadaaa questa bellissima borsa nera con le borche argento su tutta la borsa a tracolla e anche con il mango qui ed è costata 20 euro quindi mi sembra cioè da 40 euro costa 20 euro quindi mi è sembrato un super affare e sembra anche bella grande bella capiente quindi come ho detto mancavano delle borse quindi ne ho comprate due appunto questa da H&M e l'altra da Accessorize Kiko da Kiko non ho comprato tanto però alcune cosette le ho prese questo è un bellissimo pennello da sfumatura che mi mancava quindi l'ho proprio comprato e poi ho preso un illuminante che erano entrambi in saldo ma non so di più quanto costano però queste due cose sono in saldo comunque è un illuminante stick fatto in questo modo che appunto si applica sulle guance per illuminarle da OVS da OVS ho preso una semplicissima carottiera che è lunghissima quindi sembra anche questa una specie di vestito ed è questa bellissima fantasia inglese con le bandiere inglesi ed è costata 10 euro ed è molto lunga mi è piaciuta molto e so già che la metterò a un concerto da Klairs ci sono degli sconti veramente impressionanti anche se le cose sono un po' non sono tutte belle però ho trovato certe cosine davvero carine questa è una collana con su una croce oro ed è costata solo un euro un euro quindi l'ho presa per forza dovevo prenderla questa è un'altra collana che mi è costata 3 euro ed è a catena ed è sia oro che argento quindi perfetta e infine una cosa così random degli adesivi di One Direction questo perché mia sorella mi ha obbligato a comprarli non sto scherzando visto che lei l'ha preso con su Liam io ho dovuto prenderlo con su lui perché lei mi ha obbligata quindi li ho comprati costavano solo 3 euro quindi li ho presi Zara questo maglioncino corto da mettere con i vestitini che io utilizzo come sapete e quindi appunto questo è molto comodo ci ho già nero e l'ho comprato anche di questo grigio ed è costato 8 euro da 16,95 euro 8 euro ho comprato poi due maglie uguali però di diverso colore perché mi piacevano un sacco perché io amo i fiori e quindi ho comprato questa qui con i fiori e lo sfondo rosso che è costata 8 euro e uguale ma con lo sfondo nero blu anche questa è costata 8 euro quindi ho preso queste due bellissime maglie ho preso poi una maglia molto molto casuale però era carina quindi l'ho comprata ed è costata anche questa 8 euro rossa con su questo bellissimo teschio e delle rose con scritto con scritto drums around the world una cosa semplicissima però comunque sono in saldo quindi io ve li consiglio sono i pantaloni che sono costati 15 euro e prima ne costavano 26 e sono neri io li ho presi neri comunque ci sono in tutti i colori anche i jeans e io li ho presi neri perché mi servivano neri poi volevo farvi vedere i due acquisti che sono stati nominati come acquisti dell'anno l'anno è appena iniziato ma io ho già fatto i due acquisti dell'anno chissà se alla fine dell'anno penserò ancora alla stessa cosa comunque erano due cose una che desideravo tanto e l'altra che cercavo ma non avrei mai pensato e sperato di trovarla iniziamo dalla prima si tratta di trucchi si tratta di sephora e si tratta della naked della Urban Decay credo che tutti sappiano di cosa sto parlando visto che in cui in giro su youtube ce l'hanno tutte e io la desideravo da tanto tempo ma non ho mai avuto il coraggio di spendere così tanti soldi per dei trucchi però visto che a Natale mi sono arrivati dei soldi ho deciso di spendere una parte di essi per comprarla quindi questo ovviamente assolutamente non è in saldo è costata 45 euro e si tratta appunto di una palette come ben sapete di bellissimi e di una buonissima qualità ombretti di questi colori e io ho deciso di prendere la naked 2 anche se è uscita la 3 perché le tonalità di colori mi piacciono di più su questo oro diciamo e nella confezione danno anche un piccolo lip gloss quindi grazie mi sono fatta questo bellissimo regalo di Natale a ritardo non sarà emozionante per tutti ma solo per le fan di One Direction che conosceranno bene questo capo l'ho presa da Stradivarius in saldo questa è in saldo una bellissima zocca di jeans con il pelo ok questa è un capo che può piacere o non piacere perché non è uno stile diciamo così che piace a tutti però io prima di tutto l'ho notata perché ce l'ha lui l'ho vista un sacco di volte su lui e io l'ho presa per lui però ce l'ha anche Harry e ce l'ha anche Zayn non ho idea se sia la stessa che si scambia non lo so se ognuno ha la sua però io amo questa giacca perché mi piace un sacco e quindi io l'ho presa perché appunto la vedo un sacco addosso a lui quindi io ho voluto comprare il suo onore questa giacca però poi l'ho provata mi stava anche bene quindi alla fine l'ho presa ho preso la L perché a me piacciono le taglie belle e grandi costava 46 euro e io l'ho pagata 26 quindi comunque è stato anche un bel un bello sconto e quindi penso che questa giacca la metterò per sempre sarà l'acquisto di tutta la mia vita questi sono i miei acquisti e spero che vi sia piaciuto questo video qui sotto nei commenti potete dirvi quali sono i vostri negozi preferiti magari ce ne abbiamo alcuni uguali magari seguirete dei miei consigli andrete a comprare qualcosa che ho comprato anch'io non lo so fatemi sapere quello che volete e se vi piacciono i miei video e volete continuare a seguirmi qui sotto ci sono tutti i link nella descrizione e iscrivetevi al canale inoltre vi posso anche dire che ben presto ci sarà un grande giveaway cioè un video in cui io vi regalo delle cose perché vi voglio ringraziare sia i nuovi iscritti sia quelli che si sono iscritti da subito comunque iniziate anche per quelli che magari vedono i miei video ma non sono iscritti al canale iniziate a iscrivervi perché appunto tutti i miei iscritti farò questo giveaway molto presto quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao